Ciao a tutti, girovaghi del mondo, sono qui al Parco Alto Milanese. Ho visto queste belle nuvole a forma di panna che si chiamano cumuliformi quando sono bianche oppure cumulonembe quando viene al temporale. Adesso le sto filmando perché sono bellissime da vedere. E lì c'è il famoso palazzetto della Yamamei, quello della pallavolo. E guardate la bellezza di questo paesaggio. Fa caldino, eh. Ieri ha piovuto tanto, ci sono giù le pozzanghere, però guardate lo spettacolo. Eh sì, guardate lo spettacolo. Qui c'è un po' di boscaglia, c'è un po' di bosco. E guardate le bellissime nuvole. Io le chiamo nuvole a forma di panna. Sarebbero cumuliformi ma anche cumulonebbi perché sono un po' scuri. Non penso che venga il temporale, però chi lo sa. Non si sa mai, eh. Ciao ciao a tutti.